Sono stato invitato a questa manifestazione per presentare l'ente di previdenza, naturalmente sugli aspetti previdenziali ed assistenziali, ma anche su quella che è la collaborazione che stiamo attuando con la Federazione dei Collegi e con il Collegio di Firenze che ci ha invitato a presentare quelli che sono gli aspetti politici legati alla libera professione. È un momento molto significativo per il mondo infermieristico, per il mondo della libera professione e ritengo che la Cassa di Previdenza debba essere attenta a valutare insieme alla Federazione quelle che sono le necessità per questo mondo che è sicuramente il futuro della professione.